Il mare rilassa, l'ombrellone concilia la lettura, l'asdraio è sinonimo di relax e allora perché non unire lo svago alla cultura? E' questo più o meno il senso di spiagge aperte, l'iniziativa promossa dall'assessorato al turismo della regione Puglia, sindacato italiano balneari e associazione librai italiani che prevede manifestazioni ed eventi culturali con l'intento di far incontrare il grande pubblico del mare con scrittori, filosofi e poeti. Un laboratorio a ombrellone aperto insomma che ha già riscosso l'adesione di decine di stabilimenti balneari dal Gargano al Salento. Tra gli autori con i quali i bagnanti potranno parlare, commentare o semplicemente confrontarsi Raffaele Nigro, Gianrico Carofiglio, Vincenzo Cerami, Mario Desiati, Tiziana Schiavarelli, Giancarlo Sperti e Vittorio Stagnani. Offrire e diversificare l'offerta ci è parsa un'idea divertente, coinvolgente anche di crescita. In più con l'idea di far leggere dei libri, di promozionare cultura è una cosa che a me personalmente fa molto piacere, ma credo a tutti quanti cioè riuscire a far capire che un libro si può leggere anche su una spiaggia poi forse è proprio il posto deputato per i libri, l'estate, le spiagge, l'ombrellone è una cosa in cui mi piacerebbe molto che potesse avere grande successo.